Io non ammetto. Io non ammetto. Chi in politica non la pensa come me. Commento. Il sentirsi diviso da chi non ha la nostra stessa fede politica è sintomo di un io ancora grossolano. Chi si comporta così vive alla fascia delle incarnazioni istintive preposte al superamento delle limitazioni istintive dell'individuo. Tali limitazioni sono il prodotto della vibrazione dei sottopiani istintivi del corpo mentale. È la condizione dell'individuo che vive soprattutto in funzione di sé. Pronto a imporre tutto ciò che riguarda sé stesso. Anche le sue opinioni. Ma attenzione. Le incarnazioni istintive, le limitazioni, i sottopiani sono tutti e solo stati di coscienza. Grazie. 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 Grazie.